Chiaramente siamo in due gruppi diversi all'interno del Parlamento europeo che però lavorano nella stessa direzione con a volte modalità diverse. Se la nostra decisione sarà di appoggiare è perché per noi quei numeri serviranno a scardinare l'entrata della destra più estrema. Quindi è chiaramente lavorare comunque nella stessa direzione del gruppo di left, soltanto con una strategia diversa ma che coadiuva lo stesso tipo di obiettivo. Quindi no, io non la vedo come una spaccatura, la vedo come una giusta sinergia democratica per riuscire a ottenere degli obiettivi tematici e degli obiettivi politici.